Facciamo un salto al ranch demoniaco. Ci fermammo in una stanza piena di cascate. Il pavimento era un unico grande pozzo, contornato da uno scivoloso camminamento di pietra. Attorno a noi, su tutte e quattro le pareti, l'acqua piombava giù da dei tubi enormi. Provai a illuminare il pozzo con la torcia, ma nemmeno così riuscì a vederne il fondo. Briareo si accasciò contro una parete, raccolse un po' d'acqua con una dozzina di mani e si lavò la faccia. Questo pozzo scende dritto nel tartaro, mormorò. Dovrei buttarmi e risparmiarvi un sacco di guai. Non dire così, protestò Annabeth. Puoi tornare al campo insieme a noi. Puoi aiutarci con i preparativi. Nessuno sa combattere contro i titani meglio di te. Non ho niente da offrire, replicò il gigante. Ho perso tutto. E i tuoi fratelli? Chiese Tyson. Gli altri due devono ancora essere alti come montagne. Possiamo portarti da loro. L'espressione di Briareo si tramutò in qualcosa di ancora più triste. La sua faccia afflitta. Non ci sono più. Sono scomparsi. Le cascate rombavano. Tyson scruttò nel puzzo e strizzò l'occhio per scacciare le lacrime. In che senso scomparsi? Che vuoi dire di preciso? Chiesi. Pensavo che i mostri fossero immortali, come gli dèi. Persi? Mi rispose Grover in tono mesto. Perfino l'immortalità ha dei limiti. A volte... a volte i mostri vengono dimenticati e perdono la volontà di restare immortali. Lo scrutai in viso e mi chiesi se non stesse pensando a Pan. Mi ricordai di una cosa che aveva detto Medusa una volta. Di come le sue sorelle, le altre due gorgoni, fossero morte e l'avessero lasciata sola. E l'anno prima, Apollo aveva accennato alla scomparsa del vecchio Elio, in seguito alla quale i doveri del Dio Sole erano ricaduti sulle sue spalle. Non ci avevo mai riflettuto molto, ma ora, guardando Briareo, mi resi conto di quanto fosse terribile avere sulle spalle tanti anni, decine di migliaia di anni, ed essere così soli. Devo andare, fece Briareo. L'esercito di Crono invaderà il campo, disse Tyson. Ci serve aiuto. Il gigante chino il capo. Non posso, ciclope. Tu sei forte. Non più. Briareo si alzò. Ehi! Lo ferrai per un braccio e lo tirai in disparte, dove il boato dell'acqua avrebbe coperto le nostre parole. Briareo, abbiamo bisogno di te. Nel caso tu non l'abbia notato, Tyson crede in te. Ha rischiato la vita per salvarti. Gli raccontai tutto. Del piano di invasione di Luke, dell'ingresso del labirinto all'interno del campo, del laboratorio di Dedalu, del labiradoro di Crono. Briareo si limitò a scuotere la testa. Non posso, semidio. Non ho pistole per vincere questa partita. E per dimostrarlo, fece il gesto della pistola con tutte e cento le sue mani. Forse è per questo che i mostri scompaiono, commentai io. Non dipende da cosa credono i mortali. Forse siete voi a non credere più in voi stessi. I suoi puri occhi marroni mi scrutarono a lungo. Briareo assunse un'altra faccia con un'espressione che riconoscevo. La vergogna. Poi si voltò e si allontanò con passo pesante nel corridoio, finché non svanì nelle tenebre. Tyson singhiozzò. Va tutto bene. Groover gli diede dei colpetti esitanti sulle spalle, cosa che dovette costargli tutto il suo coraggio. Tyson starnutì. Non va tutto bene, ragazzo capra. Lui era il mio eroe. Avrei voluto consolarlo, ma non sapevo cosa dire. Alla fine Annabeth si alzò e si rimise lo zaino in spalla. Muoviamoci. Questo pozzo mi innervosisce. Troviamo un posto migliore dove accamparci per la notte. Ci sistemammo in un corridoio fatto di grossi blocchi di marmo. C'erano dei sostegni di bronzo alle pareti, di quelli che un tempo si usavano per le torce e sembrava quasi di trovarsi all'interno di una tomba greca. Doveva essere una parte antica del labirinto e Annabeth decise che era un buon segno. Probabilmente siamo vicini al laboratorio di Dedalo, disse. Riposiamoci un po' tutti quanti. Continueremo domattina. Come facciamo a sapere quando è mattina? chiese Grover. Tu pensa a riposare, insistette Annabeth. Grover non se lo fece ripetere due volte. Tirò fuori un mucchetto di paglia dallo zaino, ne mangiò un po', usò il resto per fabbricarsi un cuscino e un attimo dopo russava già. Tyson ci mise un po' di più per addormentarsi. Armeggiò con qualche pezzetto di metallo del suo kit per alcuni minuti, ma non era molto contento del risultato, qualunque cosa fosse. Continuava a smontare i pezzi. Mi dispiace di aver perso lo scudo, gli dissi. Ti eri impegnato tanto per ripararlo. Tyson alzò lo sguardo. Aveva l'occhio rosso di pianto. Non ti preoccupare, fratello, mi hai salvato e non avresti dovuto farlo se Briareo ci avesse aiutato. Era solo spaventato, risposi. Sono sicuro che si riprenderà. Non è forte, ribatté Tyson. Non è più importante. Liberò un grosso sospiro triste, poi chiuse l'occhio. I pezzi di metallo ancora smontati, gli caddero dalla mano e Tyson cominciò a russare. Cercai di addormentarmi anch'io, ma non ci riuscivo. Non so perché, ma essere appena stato inseguito da una gigantesca donna drago armata di scimitarre avvelenate, mi impediva di rilassarmi. Raccolsi il sacco a pelo e lo trascinai dove Annabeth si era seduta a fare la guardia. Mi sedetti accanto a lei. Doveresti dormire, mi disse. Non ci riesco. Tu stai bene? Sicuro. Il mio primo giorno a capo dell'impresa. Fantastico. Ce la faremo, la rassicurai. Troveremo il laboratorio prima di Liub. Lei si scostò i capelli dal viso. Aveva una chiazza di sporco sul mento e cercai di immaginarmela da piccola quando vagava per il paese insieme a Talia e Luke. Una volta li aveva salvati dal covo di un ciclope malvagio e aveva solo sette anni. Perfino quando sembrava impaurita, come in quel momento, sapevo che aveva un gran fegato. Vorrei soltanto che questa impresa fosse logica, si lamentò. Insomma, stiamo viaggiando, ma non abbiamo idea di dove finiremo. Come si fa ad arrivare a piedi in California in un solo giorno partendo da New York? Lo spazio è diverso nel labirinto. Lo so, lo so. È solo che... mi guardò esitante. Persi mi ingannavo. Tutte quelle mappe e quelle letture. Non ho idea di dove stiamo andando. Te la stai cavando benissimo. E poi non sappiamo mai quello che stiamo facendo. Però le cose si risolvono sempre. Ti ricordi l'isola di Circe? Lei sbuffò. Eri un porcellino d'India molto carino. E in quel parco acquatico, quando ci hai fatti volare in aria? Ah, sarei stata io? Quel volo è stato tutta colpa tua. Visto? Andrà tutto bene. Sorrise e fui contento. Ma il sorriso si spense in fretta. Persi, cosa intendeva era quando ha detto che conosci il modo per attraversare il labirinto? Non lo so, ammisi. Dico sul serio. Me lo diresti? Certo. Forse... forse cosa? Forse... se tu mi dicessi l'ultimo verso della profezia, mi aiuteresti? Annabeth era brividi. Non qui, non al buio. Di che scelta parlava Giano? Era detto basta, sbottò Annabeth. Poi fece un respiro tremante. Scusa, Persi. Sono solo stressata. Ma io non... insomma, ci devo pensare. Restammo seduti in silenzio, ascoltando gli strani cigolii e i gemiti del labirinto. L'eco scricchiolante delle pietre, mentre i tunnel si spostavano, crescevano, si espandevano. Il buio mi fece tornare in mente le visioni di Nico. E a un tratto mi resi conto di una cosa. Nico è qua giù da qualche parte, esclamai. Ecco come ha fatto a sparire dal campo. Trovato il labirinto. Poi ha scovato un sentiero che l'ha condotto ancora più giù, fino agli inferi. Ma adesso è tornato qui, ed è venuto a cercarmi. Annabeth rimase zitta per un po'. Persi, spero che ti sbagli. Ma se hai ragione... Scrutò il raggio della torcia, che gettava un debole cerchio di luce sulla parete di pietra. Ebbi la sensazione che stesse pensando alla sua profezia. Non l'avevo mai vista così stanca. E se facessi io il primo turno di guardia, proposi. Se succede qualcosa ti sveglio. Per un attimo sembrò sul punto di protestare, ma poi Annui si accasciò sul sacco a pelo e chiuse gli occhi. Quando toccò a me, sognai di trovarmi di nuovo nella prigione del vecchio, all'interno del labirinto. Ora somigliava di più a un laboratorio. I tavoli erano ingombri di strumenti di misurazione. Un forno ardeva in un angolo. Il ragazzo che avevo visto nell'ultimo sogno stava soffiando il mantice, solo che adesso era più alto e aveva quasi la mia età. Una strana specie di imbuto era collegata alla canna fumaria, intrappolando il fumo e il calore, e incanalandoli nel pavimento attraverso un tubo, fino a un grande tombino chiuso con un coperchio di bronzo. Era giorno. Il cielo era azzurro, ma le pareti gettavano ombre e cupe per tutto il laboratorio. Trovai strano che quella parte del labirinto fosse a cielo aperto. In qualche modo rendeva quel posto ancora più crudele. Il vecchio sembrava malato. Era magrissimo, con le mani rosse e screpolate dal lavoro. Aveva i capelli bianchi davanti agli occhi e la tunica sporca di grasso. Era chino su un tavolo e lavorava una specie di lungo pezzo di metallo pieno di toppe, come una fascia di maglia di ferro. Raccolse un ricciolo di bronzo e ve lo applicò. «Fatto», annunciò. «Ho finito». Sollevò il suo progetto. Era talmente bello che trasalii. Erano delle ali di piume di bronzo intrecciate. Ce n'erano due paia. Uno era posato sul tavolo. Dedalo distese il telaio e le ali si spiegarono in tutta la loro ampiezza. Misuravano almeno sei metri. Una parte di me sapeva che non potevano volare. Erano troppo pesanti, non potevano staccarsi da terra. Ma erano di una fattura straordinaria. Le piume di metallo riflettevano la luce e mandavano lampi di una trentina di sfumature dorate diverse. Il ragazzo abbandonò il mantice e corse a vedere. Sorrise, nonostante fosse sporco e sudato. «Padre, siete un genio!» Il vecchio ricambiò il sorriso. «Questo si sapeva, Icaro. Ora svelto. Ci vorrà almeno un'ora per applicarle. Vieni!» «Prima voi!» replicò Icaro. Il vecchio protestò, ma il figlio insistette. «Le avete fatte voi, padre. L'onore di indossarle per primo spetta a voi!» Il ragazzo allacciò un'imbracatura di cuoio al petto del padre, simile a quelle che usano gli alpinisti, con delle bretelle che scorrevano lungo le braccia fino ai polsi. Poi iniziò a fissare le ali, usando una specie di grosso candelotto che somigliava a una gigantesca pistola con la calda. «Il composto di cera dovrebbe reggere per diverse ore», spiegò Dedalo con un certo nervosismo mentre il figlio lavorava. «Ma dobbiamo aspettare che si solidifichi. E sarà meglio evitare di volare troppo in alto o troppo in basso. Il mare potrebbe inumidire i sigilli di cera e il calore del sole li scioglierebbe», concluse il ragazzo. «Sì, padre, me lo avete ripetuto un milione di volte. Non si è mai troppo prudenti. Ho una fiducia totale nelle vostre invenzioni, padre. Non è mai esistito nessuno più intelligente di voi!» Gli occhi del vecchio brillavano. Era evidente che amasse il suo figlio più di qualsiasi cosa al mondo. «Ora pensiamo alle tue ali, mentre le mie si solidificano a dovere. Vieni!» Fu una faccenda lunga. Le mani del vecchio armeggiarono goffamente con le bretelle. Ebbe qualche difficoltà nel tenere ferme le ali mentre le sigillava. Il paio che aveva indosso lo appesantiva, intralciandolo nei movimenti. «Troppo lento», prontolò il vecchio. «Sono troppo lento!» «Fate con calma, padre», lo rassicurò il ragazzo. «Le guardie non arriveranno prima di...» «Boom!» La porta del laboratorio vibrò. Dedalo l'aveva sbarrata da dentro con una trave di legno, ma tremò lo stesso sui cardini. «Presto!» esclamò Icaro. «Boom! Boom!» Qualcosa di pesante picchiava contro la porta. La trave teneva, ma sul battente di sinistra comparve una crepa. Dedalo lavorava come un pazzo. Una goccia di cera calda cadde sulla spalla del figlio. Il ragazzo trasalì, ma non gridò. Quando l'ala sinistra fu sigillata all'imbracatura, Dedalo cominciò a lavorare sulla destra. «Ci serve più tempo!» mormorò. «Sono in anticipo!» «Ci serve più tempo perché i sigilli facciano presa!» «Andrà tutto bene!» disse «Iscutatemi con la botola!» «Crash!» La porta andò in frantumi e la testa di un ariete di bronzo sbuccò dallo squarcio. Delle asce eliminarono le ultime schegge e due guardie armate entrarono nella stanza, seguite dal re con la corona d'oro e la barba appuntita come una lancia. «Bene, bene!» esclamò il sovrano con un sorriso crudele. «Andate da qualche parte!» «Ce ne andiamo, Minosse!» rispose il vecchio. Il re Minosse ridacchiò. «Ero curioso di vedere fin dove saresti arrivato con il tuo progettino, prima di vanificare le tue speranze. Devo dire che sono colpito!» Il re scrutò le ali. «Sembrate due polli di metallo!» decise. «Forse dovremmo spennarvi e cuocervi in brodo!» Le guardie risero scioccamente. «Polli di metallo!» ripete uno dei due. «Brodo!» «Taci!» lo zittì il re. Poi si rivolse a Dedalo. «Tu hai fatto fuggire mia figlia, vecchio! Hai ridotto mia moglie alla pazzia! Hai ucciso il mio mostro e mi hai reso lo zimbello del Mediterraneo! Non mi sfuggirai mai!» Icaro afferrò la pistola a cera calda e spruzzò verso il re, che arrettrò sorpreso. Le guardie si fecero subito avanti, ricevendo lo stesso trattamento. «Allo sfiatatoio!» gridò Icaro al padre. «Prendeteli!» sbraitò Re Minosse. Insieme, il vecchio e il figlio spalancarono il coperchio del tombino e una colonna d'aria bollente eruttò da terra. Al re non rimase altro che restare a guardare, incredulo, mentre l'inventore e suo figlio schizzavano in cielo sulle loro ali di bronzo, trasportati dalla corrente ascensionale. «Abbatteteli!» gridò, ma le guardie non avevano archi. Nella disperazione uno dei due uomini scagliò la lancia, ma Dedalo e Icaro erano già fuori dalla sua portata. Volteggiarono sopra il labirinto il palazzo del re, sfrecciarono sopra la città di Knosso e oltrepassarono le coste rocciose di Creta. Icaro rise. «Siamo liberi, padre! Ce l'avete fatta!» Il ragazzo spiegò le ali al massimo e si allontanò nel vento. «Aspetta!» gridò Dedalo. «Attento!» Ma Icaro era già in mare aperto e volteggiava verso nord, felice della loro buona sorte. Si librò in alto, spaventando un'aquila, quindi si tuffò strappiombo verso il mare, come se fosse nato per volare, frenando la caduta all'ultimo secondo. Sfiorò le onde con i sandali. «Smettila!» gridò Dedalo, ma il vento si portò via la sua voce. Suo figlio era ubriaco di libertà. Il vecchio cercò di raggiungerlo con tutte le forze, volando goffamente sulla sua scia. Erano a miglia di distanza da Creta, in alto mare, quando finalmente Icaro si voltò e vide l'espressione preoccupata del padre. Sorrise. «Non preoccupatevi, padre! Siete un genio! Sono certo che la vostra opera...» La prima piuma di metallo si staccò dalle sue ali e fluttuò via, subito seguita da un'altra. Icaro vacillò a mezz'aria. Poi, all'improvviso, cominciò a perderne altre sempre di più. Volavano via a frotte, come uccelli spaventati. «Icaro!» gridò il padre. «Plana! Distendi le ali! Resta più fermo che puoi!» Ma Icaro sbatteva le braccia, nel disperato tentativo di recuperare il controllo. Dalla sinistra si staccò per prima, strappandosi dalle bretelle. «Padre!» gridò Icaro. E poi precipitò, le ali sempre più esili, finché non fu soltanto un ragazzo con un'imbracatura e una tunica bianca, le braccia tese nell'inutile tentativo di planare. Mi svegliai di soprassalto, con la sensazione di cadere. Il corridoio era buio. Nel gemito costante del labirinto, mi sembrò di distinguere il grido d'angoscia di Dedalo che chiamava il figlio, mentre Icaro, la gioia della sua vita, precipitava in mare. Non esisteva mattino nel labirinto, ma dopo che tutti ci fummo alzati e rimpinzati con una favolosa colazione a base di barrette e cereali e succhi di frutta, ci rimettemmo in viaggio. Non parlai del mio sogno. Aveva già spaventato me e pensai che gli altri non avessero bisogno di saperlo. I vecchi tunnel di pietra cedettero il passo a gallerie di terra battuta e travi di legno, come in una miniera d'oro o roba del genere. Annabeth cominciò ad agitarsi. «Questo non va bene», osservò. «Dovrebbe esserci ancora la pietra». Giungemmo a una grotta con delle lunghe stalattiti che pendivano dal soffitto. Al centro del pavimento sterrato c'era una fossa rettangolare come una tomba. Grover abbrividì. «Qui c'è puzza di inferi». Poi vidi qualcosa che luccicava sul bordo della fossa. Un pezzo di carta stagnola. Puntai la torcia e notai un cheeseburger mezzo smangiucchiato che galleggiava in una poltiglia gassata marrone. «Niko», dissi, «ha evocato di nuovi morti». Tyson piagnucolò. «Qui c'erano i fantasmi». «Non mi piacciono i fantasmi». «Dobbiamo trovarlo». «Non so perché, ma stare sul bordo di quella fossa mi metteva addosso un senso di urgenza». Nico era vicino, lo sentivo. Non potevo lasciarlo lì in compagnia dei morti. Mi misi a correre». «Persi!» gridò Annabeth. Entrai a testa china in un tunnel e vidi una luce in alto. Quando Annabeth, Tyson e Grover mi raggiunsero, stavo scrutando il sole che filtrava attraverso una serie di sbarre sopra la mia testa. Eravamo sotto una grata fatta di tubi d'acciaio. Dall'altra parte si vedevano gli alberi e il cielo azzurro. «Dove siamo?» mi chiesi. Poi un'ombra oscuro la grata e una mucca incrociò il mio sguardo. Sembrava un animale normalissimo, solo che era di un colore strano. Rosso ciliegia. Non sapevo che esistessero mucche di quel colore. La bestia Mugi posò uno zoccolo incerto sulle sbarre e poi si tirò indietro. «È una griglia di sbarramento del bestiame?» spiegò Grover. «Una che?» replicai. «Si mettono all'ingresso dei ranch per impedire al bestiame di uscire. Non possono attraversarle.» «Come lo sai?» Grover sbuffò indignato. «Credimi, se avessi gli zoccoli lo sapresti anche tu. Queste griglie sono una seccatura.» Mi rivolsi ad Annabeth. Hera non aveva detto qualcosa a proposito di un ranch. Dobbiamo controllare. Nico potrebbe essere lassù.» Lei esitò. «Va bene, ma come facciamo a uscire?» Tyson risolse il problema colpendo la griglia con tutte e due le mani. Le sbarre saltarono via e volarono fuori dalla visuale. Udimmo un clang e un mugito spaventato. Tyson arrossì. «Scusa, mucca!» gridò. Poi ci aiutò a uscire dandoci una spinta. «Eravamo in un ranch, sì. Morbide colline si stendevano all'orizzonte, punteggiate di querce, cactus e massi. Una recinzione di filo spinato si ripanava dal cancello in entrambe le direzioni. Una mandria di mucche rosso ciliegia pascolava nei dintorni, bruccando l'erba.» «Bestiame rosso?» osservò Annabeth. «Il bestiame del sole?» «Come scusa?» replicai. «Queste vacche sono sacre ad Apollo.» «Sono vacche sacre?» «Esatto. Ma che ci fanno? Aspetta!» esclamò Grover. «Ascolta!» All'inizio tutto mi sembrò silenzioso. Ma poi lo udì. Un abbaiare lontano. Sempre più forte. Il sottobosco frusciò e spuntarono due cani. Solo che non erano due, ma uno solo. Somigliava a un levriero, lungo, sinuoso e di un bel marrone lustro. Ma il collo si diramava in due teste che ringhiavano, mordevano e in generale non sembravano molto felici di vederci. «Caneggiano cattivo!» gridò Tyson. «Bau!» esclamò invece Grover, sollevando una mano in segno di saluto. Il cane a due teste mostrò i denti. Immagino non fosse molto colpito dalle abilità linguistiche di Grover. Poi il suo padrone sbucò dal bosco e capì che il cane. Era l'ultimo dei nostri problemi. Era un omaccione con i capelli bianchissimi e spettinati, un cappello da cowboy di paglia e una lunga barba bianca intrecciata. Un po' sul genere Mago Merlino, se Mago Merlino fosse un contadino texano imbestialito. Indossava un paio di jeans, una maglietta con su scritto Ultras Texas e un giubbotto di jeans con le maniche strappate a mostrare i muscoli. Sul bicipite destro c'era il tatuaggio di due spade incrociate. In mano stringeva una mazza di legno delle dimensioni di una testata nucleare, irta di lunghi chiodi. «Qui, Ortro!» disse al cane. La bestia ci rivolse un ultimo ringhio, tanto per mettere in chiaro le cose. Poi si mise alle calcagna del padrone. L'uomo ci squadrò dalla testa ai piedi, tenendo la mazza pronta. «Che cosa abbiamo qui?» chiese. «Ladri di bestiame?» «Siamo solo di passaggio», rispose Annabeth. «Stiamo compiendo un'impresa». Un occhio dell'uomo ebbe un fremito. «Mezzo sangue, eh?» Cominciai a dire «come faceva?» Ma Annabeth mi fermò posandomi una mano sul braccio. «Io sono Annabeth, figlia di Atena. Lui è Percy, figlio di Poseidone. E loro sono Grover il Satiro e Tyson il Ciclope», concluse l'uomo. «Sì, lo vedo». Mi guardò turvo. «E riconosco i mezzo sangue perché lo sono anch'io, figliolo. Sono Euristeo, il mandriano di questo ranch, figlio di Ares. Siete passati dal labirinto come quell'altro, immagino». «Quell'altro?» chiesi. «Vuole dire Nico di Angelo?» «Ci arrivano molte visite dal labirinto», rispose Euristeo, cupo. «E non sono molti quelli che poi se ne vanno». «Cavolo!» esclamai. «Che benvenuto!» Il mandriano si lanciò un'occhiata alle spalle, come se qualcuno ci stesse osservando. Poi abbassò la voce. «Ve lo dirò una sola volta, semidei. Tornate subito nel labirinto, prima che sia troppo tardi». «Noi non ce ne andiamo», rispose Annabeth. «Non prima di aver incontrato quest'altro semitio, per favore!» Euristeo sbuffò. «Allora non mi lasci altra scelta, signorina. Devo portarvi dal capo». Non mi sentivo un ostaggio o roba del genere. Euristeo camminava accanto a noi con la mazza appoggiata su una spalla. Ortro, il cane bicefalo, ringhiava più non posso, fiutava le zampe di Grover e ogni tanto si tuffava nei cespugli per inseguire qualche animaletto. Ma Euristeo lo teneva più o meno sotto controllo. Percorremmo un sentiero sterrato che sembrava non finire mai. Era caldissimo. Un vero shock dopo San Francisco. Il calore faceva tremolare l'aria sopra il terreno. Gli insetti ronzavano fra gli alberi. Nel giro di pochi passi grondavo già di sudore. Le mosche ci presero d'assalto. Ogni tanto ci imbattevamo in un recinto di bacche rosse o di altri animali ancora più strani. Una volta ne oltrepassammo uno con la staccionata rivestita di amianto. All'interno pascolava una mandria di cavalli sputafuoco. Il fienno nelle mangiatoie era in fiamme e il terreno fumava. Ma le bestie sembravano abbastanza docili. Un grosso stallone mi guardò in nitri, sbuffando colonne di fiamme rosse dal naso. Chissà che narici irritate. Che ci fate con quelli? Chiesi. Alleviamo bestiame per un sacco di clienti. Apollo, Diomede e altri. Per esempio? Basta domande. Alla fine sbuccammo dal bosco. Sopra di noi, appollaiata su una collina, c'era un'imponente casa colonica in pietra bianca e legno con delle grandi finestre. Sembra una Frank Lloyd Wright, esclamò Annabeth. Probabilmente era una roba architettonica. Per me somigliava soltanto al genere di posto in cui un gruppetto di semidei poteva cacciarsi in un mare di guai. Ci avviamo su per la collina. Non infrangete le regole, ci avvertì Euristeo mentre salivamo le scale della veranda. Niente risse, niente armi. E niente commenti sull'aspetto del capo. Perché? Chiesi. Che aspetto ha? Prima che Euristeo potesse rispondere, un'altra voce esclamò, benvenuti al Ranch 3G. La testa dell'uomo comparso sulla veranda era normale per fortuna. Il volto era solcato di rughe e cotto dagli anni trascorsi al sole. Aveva i capelli neri e lucidi e dei sottili baffetti neri, come i cattivi di certi vecchi film. Sorrideva, ma non era un sorriso amichevole. Quanto piuttosto divertito, come a dire, oh che bello, altre vittime da torturare. Non mi fermai a rifletterci a lungo però, perché dopo notai il suo corpo. O meglio, i suoi corpi. Ne aveva tre. Ora, penserete che mi fossi abituato alle stranezze anatomiche dopo Giano e Briareo, ma quel tizio era costituito da tre persone intere. Il collo era attaccato al torace, come sempre, ma poi c'erano altri due toraci, uno a destra e uno a sinistra, uniti per le spalle, a pochi centimetri di distanza. Dal torace sinistro spuntava un braccio e così dal destro. Perciò in totale le braccia erano due, mentre le ascelle erano quattro, se vi sembra che la cosa abbia un senso. I tre toraci si fondevano poi in un busto enorme, con due gambe normali, anche se molto tozze, infilate nel più grosso paio di levis che avessi mai visto. I tre toraci invece indossavano tre camicie da cowboy di colori diverso, verde, giallo e rosso, come un semaforo. Mi chiesi come si fosse infilato quella centrale, dal momento che non aveva le braccia. Il mandriano Euristeo mi diede una spintarella. «Saluta il signor Gerione!» «Salve!» esclamai. «Belle can... bel Renz! Ha proprio un bel Renz!» Prima che l'uomo con tre corpi potesse rispondere, Nico di Angelo uscì dalla porta finestra. «Gerione, non aspetterò che...» Si bloccò non appena ci vide. Poi sguainò la spada. La lama era proprio come l'avevo vista in sogno, corta, affilata e nera come la notte più fonda. Gerione ringhiò quando la vide. «Mettila lo porta tre camicie!» esclamò Tyson, come se lo avesse notato solo allora. «Hanno lasciato morire mia sorella!» La voce di Nico tremava di rabbia. «Sono venuti a uccidermi!» Nico, non siamo qui per ucciderti. Sollevai le mani. Quello che è successo a Bianca è stato non pronunciare il suo nome! Non sei degno nemmeno di parlare di lei! «Aspetti un minuto», intervenne Annabeth. «Come faceva a conoscere i nostri nomi?» L'uomo dei tre corpi fece l'occhiolino. «Mi tengo informato, dolcezza. Tutti capitano al ranch di quando in quando. E tutti vogliono qualcosa dal vecchio Gerione. Ora, signor di Angelo, metti via quella brutta spada prima che Euristeo te la confischi!» Euristeo sospirò, ma sollevò la mazza chiodata. Ortro ringhiò ai suoi piedi. Nico non era molto convinto. Sembrava più magro e pallido di quando lo avevo visto nel messaggio iride. Mi chiesi se nell'ultima settimana avesse mangiato qualcosa. I suoi vestiti neri erano impolverati dal viaggio nel labirinto. I suoi occhi scuri colmi d'odio. Era troppo giovane per covare tutta quella rabbia. Lo ricordavo ancora come il ragazzino allegro che giocava con le carte di mitomagia. Con riluttanza rinfoterò la spada. Se provi ad avvicinarti, Persi, chiamerò aiuto. E ti giuro che non ti piacerebbe incontrare i miei aiutanti. Ti credo, replicai. Gerione gli diede dei colpetti sulla spalla. Su, su, abbiamo fatto tutti, i bravi. Ora venite, gente. Vi accompagno a fare un giro del ranch. Gerione possedeva una specie di trenino come quelli dello zoo. Era dipinto a chiazze bianche e nere, come il manto di una mucca. Il vagoncino del guidatore aveva una serie di corna di bue sul tetto e il claxon suonava come un campanaccio. Pensai che forse era così che torturava la gente. Li imbarazzava a morte, portandoli in giro con la mucca mobile. Nico si sedette in fondo, probabilmente per tenerci d'occhio. Euristeo gli si infilò accanto con la sua mazza chiodata e si calò il cappello da cowboy sugli occhi, come se avesse intenzione di farsi un sonnellino. Ortro balzò vicino a Gerione sul sedile davanti e iniziò ad abbaiare tutto contento, a due voci. Io, Annabeth, Tyson e Grover occupammo i vagoncini centrali. La nostra è una grossa azienda, si vantò Gerione quando la mucca mobile partì traballando. Teniamo soprattutto vacche e cavalli, ma anche varietà esotiche di ogni genere. Scavalcammo una collina e Annabeth trassalì. I pogalli? Pensavo che fossero estinti. Ai piedi dell'altura c'era un pascolo recintato con una dozzina degli animali più bizzarri che avessi mai visto. Per la metà anteriore erano cavalli, mentre per quella posteriore erano galli, con enormi zampe gialle, la coda piumata e le ali rosse. Due delle creature cominciarono ad azzuffarsi per un mucchietto di mangime. Si impegnarono sulle zampe posteriori e nitrirono sbattendo le ali, finché il più piccolo non galoppò via con uno strano passo saltellante dovuto alle zampe di gallo. Polli pony! esclamò Tyson stupito. Fanno anche le uova? Una volta all'anno. Gerione sorrise nello specchietto retrovisore. Sono richiestissime per le omelette. Ma è orribile! protestò Annabeth. È una specie in via di estinzione. Gerione fece un gesto non con la mano. L'oro è oro, dolcezza. E poi dovresti sentire che omelette! Non è giusto, mormorò Grover. Ma Gerione continuò con le sue spiegazioni turistiche. Ora qua giù, ci informò. Abbiamo i nostri cavalli sputafuoco, come forse avrete notato all'arrivo. Sono allevati per la guerra, ovviamente. Quale guerra? chiesi. Gerione fece un sorriso furbo. Ah, la prima che comincia. E laggiù, naturalmente, ci sono le nostre preziose vacche rosse. Centinaia di capi dal manto color ciliegia pascolavano sul fianco di una collina. Quante? commentò Grover. Eh sì. Beh, Apollo ha troppi impegni per occuparsene, ci spiegò. Così le ha appaltate a noi. Ne alleviamo così tante solo perché la domanda è altissima. La domanda di cosa? chiesi. Gerione, narco un sopracciglio. Di carne, naturalmente. Gli eserciti devono mangiare. Uccidete le vacche sacre al dio del sole per farci gli hamburger, esclamò Grover. Ma è contro le antiche leggi. Ah, non ti agitare tanto, Satiro. Sono solo animali. Solo animali? Sì. E se ad Apollo importasse qualcosa, sono sicuro che ce lo farebbe presente. Se lo sapesse, mormorai io. Nico si sporse in avanti. Non mi importa un bel niente, Gerione. Avevamo degli affari in ballo e non si trattava di questi. Ogni cosa a suo tempo, signor Diangelo. Guardate laggiù. Alcune delle mie bestiole esotiche. Il campo successivo, recintato con il filo spinato, pullulava di scorpioni giganti. Ranch 3G! esclamai, ricordandomi all'improvviso una cosa. C'era la vostra insegna su quelle casse al campo. Quintus ha preso i suoi scorpioni da voi. Quintus, ripette Gerione riflettendo. Capelli grigi, corti, muscoloso, spadaccino? Sì. Mai sentito, concluse. Quaggiù ci sono le mie preziose stalle. Dovete vederle? Non c'era bisogno di vederle, perché non appena entrammo nel raggio di 300 metri, cominciammo a sentirne l'odore. Vicino alle rive di un fiume verde, c'era un recinto grande quanto un campo da football. Le stalle erano allineate su un lato e un centinaio di cavalli pascolavano nello spazio restante con le zampe immerse nelle tame. E quando dico letame, intendo dire cacca di cavallo. Era la cosa più disgustosa che avessi mai visto, come se un'improvvisa tempesta di cacca avesse travolto la zona, ammucchiandone più di un metro. I cavalli erano sudici come le stalle. Il tampo era incredibile, peggiore di quello dei barconi di rifiuti che galleggiano sull'East River. Anche Nico aveva il volta stomaco. Che roba è? Le mie stalle, rispose Gerione. A dire il vero appartengono ad Augia, ma ce ne occupiamo noi, in cambio di una piccola retta mensile. Non sono splendide? Sono disgustose, replicò Annabeth. Quanta cacca, commentò Tyson. Come potete tenere gli animali in questo modo? Protestò Grover. State cominciando a darmi sui nervi, protestò Gerione. Questi sono cavalli carnivori, capite? Gli piace vivere così. E poi sei troppo tirchio per farli pulire, brontolò Euristeo da sotto il cappello. Taci, lo fulminò Gerione. E va bene, forse le stalle sono un po' faticose da pulire. Forse danno la nausea pure a me quando il vento soffia nella direzione sbagliata. E con questo? I miei clienti mi pagano bene lo stesso. Quali clienti? Domandai. Oh, non sai quante persone sono disposte a pagare per un cavallo carnivoro. Sono ottimi per disfarsi dei rifiuti, magnifici per terrorizzare i nemici e grandiosi alle feste di compleanno. Ce li noleggiano di continuo. Lei è un mostro, sbottò Annabeth. Gerione fermò la mucca mobile e si voltò a guardarla. Da cosa lo hai capito? È per via dei tre toraci? Deve liberare questi animali, intervenne Grover. Non è giusto. E i clienti di cui continua a parlare, aggiunse Annabeth. Lei lavora per Crono, non è vero? Rifornisce il suo esercito di cavalli, cibo e di qualunque altra cosa abbiano bisogno. Gerione si strinse nelle spalle e fu piuttosto strano considerato che ne aveva sei. Fu un po' come se facesse la ola da solo. Io lavoro per chiunque mi paghi in oro sonante, signorinella. Sono un uomo d'affari e vendo tutto quello che ho da offrire. Scese dalla mucca mobile e si avviò in tutta tranquillità verso le stalle, come se si stesse godendo l'aria fresca. Tra il fiume, gli alberi, le colline e via dicendo, la vista sarebbe stata splendida, se non fosse stato per quel pantano di letame. Nico saltò giù e corse da Gerione. Il mandriano Euristeo era meno addormentato di quel che sembrava. sollevò la mazza e gli andò dietro. Sono venuto qui per affari Gerione, gridò Nico e lei non mi ha risposto. Gerione esaminò un cactus grattandosi il petto centrale con il braccio sinistro. Sì, concluderai il tuo affare, va bene. Il mio fantasma mi ha detto che lei può aiutarmi, ha detto che può portarci dall'anima che ci serve. Aspetta un secondo, esclamai. Pensavo di essere io l'anima che volevi. Nico mi guardò come se fossi pazzo. Tu? Perché dovrei volere te? L'anima di Bianca vale mille volte più della tua. Ora Gerione può aiutarmi oppure no? Ah, immagino che potrei, rispose l'allevatore. Il tuo amico fantasma, a proposito, dove si trova? Nico sembrò a disagio. Non può formarsi in piena luce, è difficile, ma è qui da qualche parte. Gerione sorrise. Ne sono certo. A Minosse piace scomparire quando le cose si fanno... difficili. Minosse? Ripensai all'uomo che avevo visto nei miei sogni, con la corona d'oro, la barba appuntita e lo sguardo crudele negli occhi. Vuoi dire quel re malvagio? È quello, il fantasma che ti fa da consigliere. Non sono affari tuoi, Percy. Nico si rivolse di nuovo a Gerione. Perché le cose dovrebbero farsi difficili? L'uomo con tre corpi. Sospirò. Beh, vedi Nico, posso chiamarti Nico? No. Vedi Nico, Luke Kestland offre un bel mucchietto di soldi per i mezzosangue, soprattutto se sono potenti. E sono certo che quando scoprirai il tuo piccolo segreto, mi pagherà molto, molto bene. Nico sguainò la spada, ma Euristeo lo disarmò subito. Prima che potessi farmi avanti, Ortro mi balzò sul petto e ringhiò. Con i suoi brutti musi, a un centimetro dalla mia faccia. Io resterei nel vagoncino se fossi in voi, siamo unigerione. Altrimenti Ortro squarcerà la gola del signor Jackson. Ora, Euristeo, dovresti farmi la cortesia di imprigionare Nico. Il mandriano sputò nell'erba. Devo proprio? Sì, idiota. Euristeo sembrava annoiato, ma volse una delle sue enormi braccia intorno a Nico e lo sollevo in aria con una mossa da lottatore. Raccogli anche la spada, aggiunse Gerione disgustato. Non c'è niente che detesto di più del ferro dell'ostige. Euristeo ubidi, attento a non sfiorare la lama. Bene, esclamò Gerione tutto allegro. Abbiamo finito il nostro giro. Torniamo allo chalet, mangiamo un boccone e inviamo un bel messaggio iride ai nostri amici dell'esercito dei titani. Forabutto, gridò Annabeth. Gerione le sorrise. Non ti preoccupare, mia cara. Quando avrò consegnato il signor Diangelo, tu e la tua combriccola potrete andare. Non interferisco con le imprese. E poi, sono stato pagato bene per garantirvi un passaggio sicuro. Cosa che non include, temo, il signor Diangelo? Pagato da chi? replicò Annabeth. Che intende dire? Non ci pensare, dolcezza. Diamoci una mossa. Aspetti, esclamai e Ortro ringhiò. Rimasi perfettamente immobile per evitare che mi squarciasse la gola. Gerione, lei ha detto di essere un uomo d'affari. Ne faccia uno con me. Gerione so' chiuse gli occhi. Che genere di affare? Hai dell'oro? Le offro qualcosa di meglio. Un baratto. Ma, signor Jackson, tu non hai un bel nulla. Potrebbe pulire le stalle, suggerì in tono innocente Euristeo. Lo farò, esclamai subito. E se fallisco, ci prenda pure tutti e ci venda Liu. Sempre che i cavalli non ti mangino prima, osservò Gerione. Anche se fosse, avrebbe comunque i miei amici, replicai. Ma se ci riesco, ci lascerà tutti liberi, incluso Nico. No, gridò Nico. Non voglio favori da te, Percy. Non voglio il tuo aiuto. Gerione ridacchiò. Percy Jackson, accetto la tua offerta, ma dovrai completare il lavoro entro il tramonto. Se fallisci, venderò i tuoi amici e diventerò ricco. Affare fatto. Lui annui. Porterò i tuoi amici con me, allo chalet. Ti aspetteremo lì. Euristeo mi lanciò uno sguardo strano, forse di compassione. Fischiò e il cane passò dal mio petto al grembo di Annabe con un salto. lei strillò. Sapevo che Tyson e Grover non avrebbero tentato nulla finché Annabe era tenuta in ostaggio. Scesi dal vagoncino e la guardai negli occhi. Spero che tu sappia quello che stai facendo, mi mormorò. Lo spero anch'io. Gerione salì al volante. Euristeo il sonnico sul sedile in fondo. Il tramonto, mi rammentò Gerione. Non un secondo di più. Mi rise in faccia un'ultima volta. Suonò il campanaccio e la mucca mobile si allontanò rumorosamente lungo il sentiero.